mani sui fianchi christian su alto christian su alto non tirate con la schiena non si riposa tra uno e l'altro neanche un secondo non sbagliare l'apposso morbida sul culetto andando troppo avanti brava dai dai forza non andare giù con la schiena a ginevra giù col culo datti una mossa a gaia bravo christian dai giù piano e su veloce ui su All lugares altruel giù buono app giù al giù